Nell'anno dell'emergenza coronavirus cambiano le regole anche per i saldi estivi. La Giunta regionale toscana, dopo un confronto con le associazioni di categoria dei commercianti, ha stabilito che inizieranno il 1 agosto, in linea con quanto indicato dalla Conferenza delle Regioni. Non è l'unica novità. A cose normali, nei 30 giorni precedenti all'avvio dei saldi, sarebbe proibito fare vendite promozionali. Ma dopo le chiusure forzate per contenere l'epidemia, si è deciso di derogare anche a questa consuetudine e quindi le vendite promozionali saranno possibili anche nel corso del mese di luglio. Non era mai successo prima di avviare i saldi ad agosto, ha commentato l'assessore regionale al commercio Stefano Cioffo, ma preso atto dell'eccezionalità del 2020, abbiamo deciso di posticipare, così come abbiamo sospeso, il divieto delle vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti, tenendo così conto sia delle esigenze dei commercianti che quelle della clientela.